La stazione di Piazza Garibaldi si rifà in Lucca e dopo gli interventi di riqualificazione durati 5 anni, apre con nuova veste alla città ed ospita eventi e spettacoli fino a Natale. Il progetto, realizzato da grandi stazioni, è costato circa 50 milioni di euro ed ha consentito l'allestimento di 40 esercizi commerciali aperti tutti i giorni dalle 8 alle 22, nuovi punti ristoro, più di 130 panchine e pensiline ed una segnaletica rinnovata con luminosi tabelloni a LED facilmente visibili ai passeggeri. L'obiettivo, ha affermato l'amministratore delegato di grandi stazioni Franco Battaggia, è rendere la stazione centrale il nuovo salotto della città ed ampliare a 360 gradi l'offerta dei servizi per i 50 milioni di visitatori che ogni anno la frequentano. È stato potenziato inoltre il servizio sicurezza con controlli attivi 24 ore su 24 e ulteriori interventi sono previsti anche all'esterno dell'area con i lavori di recupero di Palazzo Alto che domina Piazza Garibaldi e la creazione di due nuovi parcheggi, uno interrato e uno multipiano da 500 posti. Un calendario ricco di eventi accompagnerà in stazione il periodo prenatalizio con spettacoli, concerti ed intrattenimenti con Babbo Natale per i più piccoli.